Bene ragazzi, oggi sono qui in questo shorts per consigliarvi un film horror che si chiama X, A Sexy Horror Story. È un film che è uscito da poco, tipo un annetto, e ve lo consiglio perché è il giusto miscuglio tra ansietta, quella componente splatter e soprattutto disgusto. Ve lo consiglio anche soprattutto perché è un film originale, dalla trama che non ho visto molto così, anche se è molto a stile venerdì 13, quindi molto splatter, gente che uccide tutti e queste cose così. Però ha l'originalità in qualcosa che non vi posso dire perché se no sarebbe spoiler, ovviamente. Al film do un voto di 7 e più, semplicemente perché i primi 45-50 minuti non succede moltissimo e risulta un po' noioso, però nell'ultima parte del film c'è tutto il ciotto. E quindi vi consiglio questo film ad andare a vedere in una serata magari splatter e horror. Bene ragazzi.